Sì, io purtroppo non sono stata, ma c'è un tappo di filantulica, io sono un lavoratore di filantulica. Sì, sì, sono qui in cerco, vediamo. Prendiamo tutti i materiali di cuore, spesso scampoli, per esempio quelli che riportano i numeri sono tutti scampoli. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.